Un cedimento oggi da parte di chiunque significherebbe riaprire le porte al traffico di esseri umani gestito dai mafiosi e dagli scafisti. Non cambierò mai idea, lo dico con la massima trasparenza e serenità anche agli amici del governo, anche ai miei colleghi di governo. Se ci sono regole vanno rispettate, che ogni ministro si occupi delle sue competenze, altrimenti punto punto punto. Così parlò Matteo Salvini, pronto a mettere non un punto su questo governo, ma ben tre. Sull'arrivo dei migranti della Sea-Watch il vice premier fa capire chiaramente che si potrebbe rompere l'alleanza tra Lega e Movimento 5 Stelle. Un presagio, un'ipotesi che poche ore dopo aver girato questo video più che mai prende vita con l'accordo tra Unione Europea e Malta per lo sbarco dei profughi che verranno distribuiti tra otto paesi, compresa l'Italia. E così la spaccatura di governo, appena accennata da Salvini, diventa improvvisamente una crepa politica profonda che arriva fino in Veneto dove Luca Zaia sbotta su Facebook. In Italia da irregolari non si deve arrivare più, soprattutto su barconi faticenti o su navi che hanno disobbedito alla guardia costiera libica che stava andando a soccorrere i 40 immigrati per riportarli in terraferma. Questa non è umanità, è tutt'altro. I dati parlano chiaro. Dopo la riduzione dell'80% degli sbarchi nel 2018, quest'anno gli arrivi a oggi sono zero. Perciò io dico Salvini non mollare. E come Luca Zaia, tutte le regioni della Lega in queste ore fanno quadrato attorno a Matteo Salvini. Il vicepremier è furioso, non sono stato avvertito, serve un chiarimento nel governo e non autorizzo arrivi. Le regole sono regole e vanno rispettate. Ognuno ha il suo lavoro. Matteo Salvini sta facendo un ottimo lavoro in tema di immigrazione. Il premier racconta rispetto ai fatti, anche perché non vogliamo trovarci a Vicenza dei potenziali kamikaze che le ultime inchieste invece hanno rilevato arrivare proprio nei nostri porti. A Vicenza il segretario cittadino della Lega chiude ai migranti di Sea-Watch, mentre il vescovo, Monsignor Beniamino Pizziol, apre le porte della diocesi, come aveva già promesso qualche mese fa. Io se resto comunque disponibile per un'eventuale altra possibilità se si verificano delle emergenze. Come Lega siamo assolutamente contrari alla scelta del vescovo di dare la disponibilità anche a Vicenza per accogliere i richiedenti asilo della Sea-Watch e sosteniamo il ministro Salvini nell'azione di contrasto al business dell'immigrazione.